Ciao ragazzi, sono Riccardo di Ultimate Success Formula, la formula definitiva per il successo e sono specializzato nel creare strategie e metodi per generare entrate passive, automatiche e ricorrenti. Allora, come va ragazzi? Tutto bene? Mi vedete sempre qui al chiuso perché qui fa parecchio caldo a Dubai, quindi diciamo che siamo costretti a rimanere, diciamo, con i pinguini al fresco. Ho messo oggi la camicia, ragazzi, questa camicia coreana, penso che sia, perché vi devo dare degli aggiornamenti molto importanti, quindi diciamo un momento solenne richiede una vestizione, diciamo, più seria e congruo, anche se devo dire che dopo aver lasciato il lavoro da dipendente come manager, mi sono un po' ribellato alle camice, diciamo agli abiti, perché comunque trovo più comfort nella t-shirt, nell'Apolo e quindi sono un po' restio all'indossare le camice. L'indosso solo in situazioni importanti, come quella di oggi. Quindi oggi vi vado a parlare di alcuni aggiornamenti importanti legati all'azienda Ultimate Success Formula e vi do qualche novità, qualche insight e nello specifico vi andrò ad aggiornare su tre nuovi asset partner, quindi che sono stati in qualche modo filtrati, selezionati, analizzati e dove noi in primis con la nostra azienda abbiamo investito in prima persona, tre nuovi asset che da qui a un mese verranno presentati a voi e che quindi potrete decidere di ovviamente entrarne a far parte. Un altro aspetto molto importante, prima chiaramente di entrare su questo topic e darvi qualche aggiornamento e svelarvi qualche chicca, vi dico che in questo momento storico, oggi siamo il 6 agosto, il video dovrebbe uscire oggi, se non erro devo guardare la pianificazione dei video, ma credo che esca proprio oggi, siamo in un periodo promozionale, quindi cosa significa? Significa che molti di voi lo sanno, se non lo sai te lo dico adesso, noi vendiamo e creiamo dei percorsi formativi legati alle entrate passive, automatiche e ricorrenti, spieghiamo la strategia, spieghiamo come creare il proprio obiettivo ed insegniamo effettivamente dei metodi e delle strategie per essere profittevoli, cercando di impiegare pochissimo tempo e avere chiaramente dei guadagni, anche partendo da zero, interessanti. Quindi abbiamo il percorso, diciamo, tradizionale, il pilastro, che si chiama la formula definitiva per il successo, abbiamo il percorso pepite digitali, che sta riscontrando un ottimo successo, dove la community è in forte crescita, dove abbiamo già avuto dei guadagni molto importanti, abbiamo già delle testimonianze interessanti, appunto casi studio di successo, e poi chiaramente abbiamo degli altri servizi, degli altri prodotti che non vengono, diciamo, pubblicizzati in maniera pubblica, ma sono dei servizi sartoriali che andiamo ad offrire agli studenti privati, ok? Quindi servizi di fiscalità, di pianificazione, diversificazione e quant'altro. Quindi, come tutte le grandi aziende, quello che stiamo facendo è quello di dare la possibilità, ovviamente, per un numero limitato di posti, perché poi noi le persone le seguiamo, li affidiamo ai nuovi studenti, affidiamo un consulente, ci sono poi le consulenze con me, ci sono le mini consulenze di gruppo su Zoom, e quindi chiaramente non possiamo farlo a tutti. Però in questi giorni, sicuramente fino a domenica, per un numero di posti limitato, stiamo dando la possibilità di accedere a tutto l'ecosistema formativo di Ultimate Success Formula con delle condizioni che io definisco scandalose. Questo per quale motivo? Perché chiaramente anche noi seguiamo il trend e le strategie di grandi aziende, dove ad agosto fondamentalmente il concetto è quello che bisogna dare un'opportunità irripetibile a una persona che vuole in qualche modo abbandonare il relax, le vacanze, la spiaggia e vuole darci dentro, per poter abbandonare o comunque limitare un po' la spiaggia, il relax e darci dentro con lo studio, fare azione per cambiare la propria vita, bisogna dare un forte incentivo e creare una situazione win-win, dove vince l'azienda, che fa profitto anche ad agosto, che è un mese un pochino più scarico e dove chiaramente lo studente ha la possibilità di entrare con delle agevolazioni da un punto di vista economico. Quindi nel caso in cui tu fossi interessato e volessi saperne di più, chiaramente parlerai direttamente con un consulente, per avere tutte le info ti lascio il telegram mio diretto che a volte leggo io, a volte poi è filtrato dai collaboratori, te lo lascio come primo link qui in descrizione, se sei curioso, magari mi segui da un po', vuoi entrare a far parte della nostra community, vuoi studiare da me, sia nel caso di pepite digitali, sia nel percorso strategico, oppure vuoi valutare entrambe con la promo, scrivimi in modo tale che io ti possa segnare un consulente e possiamo spiegarti questa promo scandalosa. Se sei uno studente di uno dei percorsi e vuoi fare un upgrade, questo può essere un ottimo momento. Quindi scrivete direttamente su telegram, scrivete info promo estiva e vi metterò in contatto con un consulente per darvi tutte le informazioni. Detto ciò, entriamo nel topic di oggi, quindi vi spiego quelli che sono a livello concettuale strategico questi tre nuovi asset che andremo ad inserire. Ok, avremo un asset che, se sei un mio studente, conosci la teoria dei semafori, dove il semaforo verde è l'asset più sicuro, l'asset arancione è quello, diciamo, nella borderline, nella linea di confine tra il super sicuro e quello un pochino più spinto, l'asset rosso è quello super spinto, magari un pochino più speculativo, ma più rischioso. Ovviamente, come si fa ad essere sempre in profitto, a parte studiando da noi, chiaramente, in qualche modo creando una strategia che sia bilanciata nei tre semafori e che ovviamente sia congruente a quelli che sono i tuoi obiettivi. Abbiamo selezionato, abbiamo investito, abbiamo filtrato, abbiamo investigato e presenteremo, ripeto, da qui ad un mese questi tre nuovi asset. Il primo è nel semaforo verde, quindi un asset super sicuro, molto profittevole, perché parliamo all'incirca di un 10% mensile di ritorno sull'investimento. C'è la possibilità di fare rete, quindi di fare network, di avere quindi un doppio guadagno, chiaramente non è obbligatorio, si può anche solo investire. E ci sarà un lancio a livello mondiale proprio a fine agosto. Chiaramente io ho dei contatti privati, dei contatti, diciamo, privilegiati, quindi ho avuto la possibilità già di testare da diversi mesi questo asset. Chiaramente ci ho messo qualche decina di migliaia di dollari, perché comunque mi piace testare con i soldini veri, no con le chiacchiere. E quindi se sei interessato a questo semaforo verde, a questa opportunità, a questo business, che partirà ufficialmente a fine agosto, puoi sempre scrivere sul Telegram che ti lascio qui, mi scrivi, ti presenti, mi dici chi sei, e se rispetti alcuni requisiti, ti do la possibilità di accedere a un gruppo gestito da me dedicato al mercato italiano, dove rilasciamo quotidianamente degli aggiornamenti su questo asset per renderci pronti e diciamo i belli, aggressivi, cattivi sul mercato a partire da fine agosto. Molto, molto interessante. È un asset, secondo me, rivoluzionario. Ok? Si può partire con un capitale basso, non ci sono costi iniziali, quindi è molto, molto, molto interessante. Quindi barriera di ingresso, diciamo, bassa. Siccome molti magari avevano visto degli altri business, mi hanno chiesto, ad esempio Turbo, che ci vogliono comunque 3.000 dollari per partire, per acquistare la licenza, eccetera, questo business va un po' a bypassare queste problematiche. Quindi anche se parti con poco denaro, hai la possibilità di, insomma, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Secondo asset fa parte della categoria arancione, quindi è un business un pochino più, se vogliamo, rischioso. Chiaramente ha delle percentuali di guadagno tendenzialmente più alte, perché si va da un 8 a un 35% mensile. Anche qui c'è la possibilità di fare rete, ci sono dei piani compensi interessanti, anche qui il capitale rimane in tuo controllo, in tua gestione. In questo caso si parla non di un asset con valute tradizionali, quindi quelle che vengono chiamate valute fiat, come l'euro, il dollaro, ma parliamo di un asset che gestisce, viene gestito principalmente con criptovalute, in maniera molto semplice, anche questo totalmente automatico. e la semafora arancione, barriera di ingresso un pochino più alta, perché bisogna acquistare una sorta di licenza, però comunque ha un costo irrisorio, e anche questo è un asset dove stiamo testando da diversi mesi, ma anche questo è relativamente nuovo nel mercato italiano, quindi è partito dal mercato inglese, adesso si sta espandendo in Europa, quindi anche questa è un'ottima opportunità di business, anche se un pochino più spinta. Qui non abbiamo creato un gruppo Telegram, però dalla prossima settimana posso fornirti un consulente per spiegarti il business con le slide e tutto quanto, quindi questo a partire dal lunedì della prossima settimana. Per quanto riguarda il terzo asset, è Semaforo Rosso, è un'azienda qui a Dubai, è un'azienda diciamo che ha vari business al suo interno, anche questa è un'azienda relativamente giovane, interessante sia da un punto di vista di investimento, sia da un punto di vista di rete, quindi di opportunità, di affiliate marketing, network marketing, chiamalo un pochino come vuoi, Semaforo Rosso, perché a Dubai su alcune situazioni si riesce ad avere meno informazioni, quindi noi di solito abbiamo un team che fa delle ricerche molto approfondite, a Dubai ci sono delle cose che rimangono private, da un certo punto di vista per fortuna, da un certo punto di vista non si possono indagare tutti gli aspetti di un determinato business, però anche questo è molto interessante, barriera d'ingresso anche qui molto bassa, siamo intorno sempre ai 100 dollari, anche se ovviamente più metti più guadagni, e percentuali di guadagni interessanti, variabili, business un pochino più complesso rispetto agli altri due, sempre passivo, sempre automatico, sempre ricorrente, anche qui ho deciso, visto che è già esistente, di non creare un gruppo dedicato, ma hai la possibilità comunque di seguire me e tutti quelli che sono gli aggiornamenti direttamente dal canale, che ti lascio il link qui sotto, e ovviamente rilascerò dei video a riguardo, ma anche in questo caso, come nel secondo asset, nel caso in cui tu voglia fare una consulenza con uno dei consulenti, diciamo dedicato a te, per capire eventualmente come bilanciare gli asset, e quale è più adatto a te, e quale è meno adatto a te, puoi iscrivermi, e ti indirizzerò a un consulente di riferimento. Altre novità, faremo una cena mastermind, il 4 settembre in Italia, in provincia di Milano, con quelli che sono gli studenti privati di Pepite Digitali Iro, abbiamo gli ultimi due posti, quindi se sei già uno studente, anche non Iro, puoi ovviamente pagando un sovrapprezzo, entrare a far parte, quindi iscrivimi anche per questo su Telegram, rilanceremo un token proprietario, da qui a fine dell'anno, un token chiaramente che ha delle utility, quindi non sarà un token solo di speculazione, ma sarà un token con delle utility, molto interessante, sarà un token che molto probabilmente si chiamerà USF, e verrà lanciato o su lette Ethereum, o su lette Binance Smart Chain, quindi stiamo vedendo con gli ingegneri quale soluzione migliore per voi, più che altro, e quindi poi farò dei video a riguardo, chiaramente gli studenti avranno degli airdrop gratuiti di questo token, ovviamente per sdebitarmi di quella che è stata la fiducia. E basta ragazzi, ci sono tante altre cose alle quali stiamo lavorando, il mese di agosto per me è un mese, come dicevo, fatto di studio, di immersione, di programmazione, ho in programma, a tal proposito, di fare parecchi video, quindi ovviamente voi fatemi sapere con i like, con i dislike, con i commenti, se quello di cui parlo è di vostro interesse o meno, ho fatto dei sondaggi nella community, ho avuto, diciamo, degli aggiornamenti, ho avuto un po' anche i vostri feedback, quindi questo mi fa molto piacere, e avremo anche una zoom dedicata, l'ho detto nel canale, legata all'asset hyperfound, dove potrete gratuitamente fare domande e risposte, quindi andate nel canale, trovate tutte le informazioni, quindi ricapitolando, vi lascio, nel primo link qui in descrizione, il, diciamo, il contatto diretto telegram, che guardo anch'io, però molte volte viene filtrato dai collaboratori, ok, quindi giusto per essere, insomma, chiaro e sincero, qui mi potete scrivere, se siete interessati, al primo asset del semaforo verde, in qualche modo vi volete mettere in lista d'attesa, quindi entrare nel canale, nel gruppo, scusatemi, telegram dedicato, semaforo verde, interessante, saremo i primi a livello mondiale, per gli altri due, semaforo arancione, semaforo rosso, ok, non ci sono dei gruppi, ma vi regalo una consulenza, gratuita, con un nostro consulente, per farvi un piccolo piano, e spiegarvi le caratteristiche, di entrambi gli asset, e vedere quale è meglio per voi, vi lascio poi sotto, anche il canale, telegram ufficiale nostro, nel quale rimanere aggiornato, sulle nostre novità, se siete interessati a sapere, della promozione estiva, per diventare studenti, Ultimate Success Formula, scrivete sempre, cliccando nel primo link, scrivete info promo estiva, in modo tale che, io vi possa indirizzare un consulente, ok, detto ciò, rimanete aggiornati, fatemi sapere, nei commenti, se questo video, è stato di aiuto, se, insomma, vi è venuto un po' di curiosità, e ci vediamo, nei prossimi video, a presto.